Caglio a tutti, anzi caglio sto cazzo perché anche oggi si è attentato alla libertà di uno youtuber e anche oggi madonna mi devo scendere in campo per la difesa dei miei idoli perché non è possibile convivere con questa gente non è proprio possibile, cioè io ero qui che vi stavo facendo il tutorial su come rimorchiare le fighe perché voglio che anche voi scopaste, scopeste, scopiste, anche voi facete le cose amoreggianti con le donne quando un mio fun mi scrive sotto i commenti, sentite cosa mi scrive, salve 217, lo faccio per voi, carretto J, Ciccio Gamer è arrabbiato, hanno attentato ai suoi marchi registrati, lui lo fa per noi, ti prego fai un video in sua difesa dove minacci gli haters allora io sono andato a vedere ed effettivamente c'era un video di Ciccio Gamer contro gli haters poi alla fine, visto che non sono scemo e voi lo sapete che io non sono scemo, ho detto di chi sarà la colpa? dai di chi sarà la colpa? di Dellimello, sicuramente di Dellimello la colpa e allora sono andato sul suo canale schifoso, prima ho messo i guanti di mia mamma per lavare i piatti perché non posso entrare in quei canali schifosi come quelli di Dellimello e ovviamente avevo ragione, cioè Dellimello attacca ancora Ciccio Gamer 89 per l'ennesima volta per futili motivi e quindi adesso mi sono incazzato e ho deciso di dichiarare guerra a Dellimello e a tutti gli haters come? guardate, guardate che uno scherzo, guardate, vedete dove mi trovo? anzi questo messaggio lo dedico proprio a Dellimello, 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 guarda dove mi trovo lo vedete dove mi trovo? eh lo stai vedendo? lo stai visionando? sono davanti al Disney Store del mio paese che non vi dirò dove perché se no mi uccidono, mi mettono le bombe gli haters mi mettono le bombe sotto casa e sto per entrare? lo sai? sto per entrare? io ti avviso, sai cosa troverò qua dentro? le spade laser con cui ti taglierò a fette swing, 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 la pistola laser, le armature, gli scudi e soprattutto i pugnazzi di Hulk e l'armatura di Capitano America, sei fottuto Dellimello, ti uccido, ti uccido, poi prendo, sai cosa prendo anche? prendo i codini e le trecce di Rapperonzolo e ti strozzo, ti faccio morire soffocato così, guarda, guarda come muori, guarda così muori soffocato, ti uccido Dellimello, questo comunque è il primo video di altri tre che farò perché state attenti che adesso bisogna mettere un freno e un freno a mano a queste cose perché non è possibile andare avanti così nella community italiana, noi ci dovremmo dare i baciini, ci dovremmo amare e invece per colpa di Dellimello e di persone schifose come lui, cioè ci ritroviamo qui ogni giorno a fare video che non vorremmo mai fare, neanche per fare le visual perché noi lo facciamo per voi, sia io, sia CiccioGamer, sia Favij, sia Grittamenchi, sia qualsiasi altro, me la godo, me la banana, tutti la facciamo per voi e invece voi ci attaccate come se noi fossimo, non so, i calciatori di turno, perché non andate a minacciare i calciatori che guadagnano milioni di euro invece di guadagnare 100 lire che guadagniamo noi, cioè non vi vergognate, ma guarda veramente io non ho parole, comunque Dellimello io entro e vado a prendere tutti gli arnesi, ti strozzo, ti uccido, ti lamo, ti sparo, ti faccio male, è inutile che ti presenti lì nel video con quegli occhialetti da bello figogù, ma chi ti credi di essere, che poi millanti di avere amici avvocati, ma chi ti sei in c***a, sai cosa ci faccio con i tuoi amici avvocati, sai cosa ci faccio, ci faccio la passata di pomodoro, li faccio dormire con i pesci, come il padrino che io ho visto accompagnato dai genitori perché ce l'ha scritto vietato ai minori di 12 anni e quindi ho detto no ma non da, mamma guardiamoli insieme, poi quando hanno fatto vedere la testa di cavallo mi sono spaventato e ho spinto, perché non volevo più vedere, avevo tanta paura, comunque ti faccio dormire con i pesci del livello, del livello sono pronto, sto arrivando a prenderti, preparati del livello, preparati, io ce lo scudo ai pugnazzi di Hulk, vediamo tu cos'hai, vediamo, basta ora vi saluto perché vado dentro, no nonna mi ha dato 50 euro per comprare tutto, spero di riuscire tutto, e niente ci becchiamo al prossimo video, CAI a tutti e grazie per i like, per le condivisioni e a morte gli haters!